Al via la programmazione estiva del Parco Archeologico di Pestum e Velia che anche quest'anno apre i cancelli dalle due aree archeologiche magno-greche oltre il consueto orario di apertura dalle ore 20 alle ore 23. Si parte sabato 3 luglio con la Notte Europea dei Musei e si continua nei mesi estivi fino al 5 settembre con gli eventi Pestum e Velia by Night. Previste visite libere al santuario meridionale di Pestum e alla città bassa di Velia e su prenotazione visite animate con ospiti d'eccezione. A Pestum torna Pulcinella che accompagnerà i visitatori in un tour tra i templi greci meglio conservati al mondo e spiegherà con un linguaggio tipico della commedia dell'arte la storia dell'antica città di Posidonia Pestum, questa volta con il naso all'insù per scoprire le straordinarie storie del mito legate alle stelle. Nella splendida cornice di Velia, esclusivamente per la Notte dei Musei, i visitatori potranno ammirare tra i resti delle antiche abitazioni veline lo stesso cielo notturno che ha ispirato e accompagnato gli antichi filosofi di Elea Velia, l'iniziativa Le Costellazioni di Elea. Osservazioni delle stelle con telescopio unisce scienza e mitologia e tende a far immedesimare il visitatore nei panni di un antico abitante di Velia per poter comprendere il rapporto degli antichi con le costellazioni. Oltre che a insegnare come si misura la distanza di una stella, il tutto sarà arricchito dalla presenza dei telescopi del Centro Astronomico di Salerno, Neil Armstrong messi a disposizione per tutti i partecipanti che potranno ammirare i protagonisti dello Zodiaco, ovvero lo Scorpione e il Sagittario e le costellazioni del Cigno, dell'Aquila e della Lira, ma anche molto altro. Per le altre date del programma, Velia by Night, i visitatori verranno coinvolti in un viaggio affascinante, denso di emozioni, che arricchirà le passeggiate al chiaro di luna con lanterne, con l'iniziativa in programma Velia al chiaro di luna, musica e parole nell'antichità. Attori e musicisti interpreteranno brani del mondo classico, accompagnando i visitatori in un tour unico indietro nel tempo, rivivendo le antiche atmosfere della città magno-greca, patria dei filosofi Parmenide e Zenone.